Ciao a tutti, nuovo video sul torneo di Green Volley che ho fatto settimana scorsa sono arrivato a 16esimo anche stavolta, anche se questa volta avevo la squadra per vincere quindi abbiamo andato soprattutto a divertirci e niente, abbiamo cercato di fare del nostro meglio adesso godetevi dei lights e buon proseguimento, ciao! Ciao a tutti! Ho portato la tuta! Ciao a tutti! Dopo! Ho portato la tuta! 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 Grazie a tutti.